Appena finito un video, doveva essere un video breve, invece è venuta la solita solfa di più di mezz'ora di roba. Una lavorazione interessante. Pino Mugo. Oggi qua dalla mia tenda beduina vi parlo del mio Pino Mugo. Allora, prima cosa, chi conosce questa pianta, chi è stata a casa mia, rimarrà stupito perché finalmente sono riuscito a disincastrarla dalla tolla di tempera dove l'avevo appoggiata anni e anni fa e per cui sono riuscito con un enorme sforzo a sbloccarla e portarla qua per fare manutenzione e allo stesso tempo facciamo il video. Due parole su questa pianta. Allora, Pino Mugo per cui gioia e dolori. Noi mughisti sappiamo che il Pino Mugo dà tante belle soddisfazioni ma a volte serva alcune sorprese, cioè è una tipologia di pianta che segue molto l'andamento delle vene, sostanzialmente come il Ginepro, solo che con la rusticità del Pino fai fatica a capire dove vanno. Quindi deve avere molto intuito e molta esperienza su questa essenza. cosa mi piace tanto che quando è pieno è pieno, cioè si riempie molto bene e che vegeta sullo sporco, a differenza di altri pini. Questa pianta l'avevo lavorata nel 2017 mi sembra, 2016-2017 durante il Black Scissors Live Demo che era questo evento internazionale, mondiale, dove una serie di artisti erano stati selezionati per fare online, a una determinata ora di appuntamento, una loro lavorazione. Io avevo proposto questo mugo, era una pianta che mi ero procurato io tanti anni fa. Era dritta. Questo, se vedete, ecco prima, ho delle vecchie foto, non quelle più vecchie dove era dritto dritto, perché purtroppo ho perso sia la reggita che ho cambiato il telefono per la quale avevo fatto le foto, però questo era completamente dritto. Mi era piaciuta sta pianta perché c'era questa zona molto mossa, ma quando sono andato per tirarla su questo mio terreno di raccolta ho visto che sopra c'era un cuscinetto di erbacee che mi nascondeva al tratto dritto. Vabbè, l'avevo smossa, era in una situazione anche dove c'era un sentiero, stavano facendo manutenzione e sarebbe morta, per cui l'ho spiantata, l'ho messa in un vaso e l'ho lasciata lì per diverso tempo. Finché a un certo punto la pianta ha preso forza e tutto quanto e ho deciso di dare carattere a questa parte dritta, perché non sapevo come fare, ma argottare il mugo è difficile, per cui niente, ho pensato uno svuotamento. Poi vi faccio vedere bene da vicino cosa è stato fatto, è stata fatta tutta una cava interna, asportato il legno, ritorto e poi anni e anni di coltivazione affinché la parte rimanente prendesse forza, l'ignificasse nuovamente e tenesse la forma, perché questa era sostanzialmente solo pochi millimetri, era lasciato quel poco che bastava per far passare fluidi sullo xylema, no, per idratare la pianta, tutto lì. Allora, volevo farvi vedere questa pianta, oramai è un po' cresciuta, qua è quadrata, è una pianta molto dinamica, per cui dobbiamo andare a tagliare un po' di vegetazione, per ritornare a dare quel dinamismo. Già anni fa avevo fatto una challenge fotografico, però la pianta era giovanile, si vedeva molto questo ramo qua sotto, che adesso è un pochino più nascosto, anzi vi faccio vedere delle foto repertorie, però allora è migliorata sotto questo aspetto, sopra un po' cresciutina, specialmente dietro. La devo accorciare perché è la classica tipologia di pianta, che più gli dai vegetazione e meno valorizzi il tronco, per cui andiamo a togliere. Allora, non andrò a fare una gran pulizia del lago vecchio, perché questa pianta qua vegeta sullo sporco, il mugo, ecco, detto il primo segreto, quindi visto questo segreto qua che ve l'ho detto, oramai sentitevi pure in difetto da parte mia, se volete rimediare, mi mettete o un like al video, vi iscrivete, attivate già la campanella, oppure se volete sapere anche un po' di più con video inediti così, abbonatevi al mio canale, che mi fa sempre piacere, ok? Così, perché abbonamento sostanzialmente? Perché non posso far vedere sul canale, diciamo, aperto a tutti quelli che i ragazzi vengono nel laboratorio a pagarmi. sostanzialmente l'abbonamento è una via di mezzo dove la gente comunque a fronte di una spesa piccolissima ha il vantaggio di vedere un po' del mio insegnamento in dettaglio, no? Allora, dicevamo, adesso vi faccio vedere da vicino qua, però subito già nelle immagini vedrete che questa è una zona molto pesante per cui cerchiamo di andarla ad alleggerire. Allora, prima vi faccio un close up che così vedete bene 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 le parti da vicino, le lavorazioni fatte. E anche una cosa sul filo, un'indiscrezione. Nel frattempo like, ditemi sotto cosa ne pensate di questi miei video, perché è l'unica cosa. Cioè, per dire, con i like io capisco se vi piace. Se ad esempio arriviamo a mille like di sta pianta, posso fare una... farvi un video simile. Se vedo che sotto ci sono tanti commenti, posso farvi un video simile. Se uno non dice niente, a parte quello che mi dice, ragazzi, uno che mi ha detto che le mie piante non hanno il piede a raggera. Ma zio boh, uno yamadori del genere. Cosa te ne fai del piede a raggera? Voglio dire, non è il pregio principale. Iniziamo a vedere, beh, da vicino lago lucido, guardate quanto è folto. Non si vede sotto, eh? È pieno, pieno, pieno. Poi qualcuno mi dice che è un casino, ma quando è pieno così benvengono i casini. Qua adesso ci sono queste zone rattristate perché è lago vecchio che ha perso. Va pulito tutto, eh? O con la pinzettina o con le mani pungendosi, ma va fatto. È una rottura di scatole, ma va fatto. Allora, qui dietro vedete che c'è questo pezzo che spara fuori. Lo devo contenere un po' per rendere più leggera la pianta. Da lontano lo vedete. Immaginate di vedere senza questa zona. Vedete come l'apice si sposta sull'esterno sinistro e dà un po' più di dinamismo. Così anche questo qua è troppo pesante. Devo cercare di alleggerirlo leggermente. Faccio vedere la cosa che vi dicevo che mi ero innamorato di sta pianta. Vedete che movimento? Fino a qua è tutto naturale. Ok? Si vede anche in 3D. Vediamo. Ecco, vedete? Che naturalezza, che movimento. Molto bello. Arriva da qua dietro. Ok. E qua sopra era dritto, mannaggia, e per cui ho dovuto scavare tutto. Ok. Poi chi ha già fatto i miei corsi online, lo so, l'ha già visto perché lo uso anche come esempio sul corso delle piegature. Ok. Vedete? Qua ha una zona mollata, come vi dicevo, perché il pinomugo ha questa cosa che è quasi come il ginepro, molla le vene. Tant'è che questo si è ripercosso qui. Questa vena è morta praticamente, questa radice è morta. Mi serve come ancoraggio per tenerla nel vaso. Adesso, fatto questo, mi ci sarà un vaso un po' più piccolo, ok? Un pochino più centrato, ho messo un pochino più qua, così, svasato, perché la radice che porta tutta la vita è questa. Questa mi serve solo per controbilanciare la forza, tant'è che vedete che io, che astuzia avevo adottato, c'è una vite che, così, sembrano un po'... Ecco, vedete qua i dispiaceri del mugo. Purtroppo, fortunatamente non mi ha lasciato dispiaceri, però questa zona è tutta ritirata, è tutta legna secca. Qua, invece, si vede la vena, vedete come è ingrossata, è cambiata anche la texture, che ha preso forza e mi ha salvato la pianta. Ecco, può capitare che a volte non si è così fortunati e purtroppo magari ti molla una vena che ti passa sul fronte e quindi ti segna la legna secca, una vena che ti porta al ramo e quindi ti ciocca un ramo. Purtroppo il mugo è così, sempre in movimento. Ogni rinvaso del mugo può costituire un pericolo, eh già. Allora, vedete, così a me piace la tridimensionalità data su questo tronco qua. Adesso vi faccio vedere come voglio rientrare nella geometria, ma prima vi ho parlato indietro, tempi indietro, tempi indietro sembra una cosa, tempi di guerra, come diceva mia nonna. Allora, filatura sul mugo, vedete qua, ci sono delle zone dove proprio ha segnato il filo. Ecco, anche qua, qua molto evidente. Allora, io faccio questo perché il mugo è molto flessibile affinché tenga la forma, deve rimanere tanto tanto tempo, segnare in questo modo. Poi cosa faccio? Sostituisco il filo con uno uguale ma cambiando traiettoria. Quando si va a, diciamo, pareggiare la cava, quando la cava va a sparire, sostanzialmente il mugo 90 su 100 ottiene la forma. Cambia di qualche cosina, ma non poi di tanto. È un trucco che uso su questo, su altre piante. So che rimane il segno del filo, ma a volte poi si riesce benissimo a camuffare e via. Vedete qua, ho tanto ago vecchio, qua quando ce n'è così tanto, roba arretrata, vado, pulisco. Anche qui, vedete, altrimenti qua dove ce n'è poco e l'ago è già piccolo, vuol dire che ha già preso una certa maturità, lo lascio e faccio in modo che mi dia quel aspetto di folto, di folto. Particolare dello stratagemma, vedete qua, questa versatile, che poi sostituirò con un chiodino o qualcosa, che mi vada a cuire questa curva e in modo tale che, anche se non c'è vegetazione però, chiusa così, si vede poco, che c'è poca vegetazione. Poi questo lo posso spostare, vado a camuffare e via. È proprio che stona su sta pianta questo bozzo qua dietro, che adesso andiamo a ripulire via un pochino e a dare un po' di forma per rendere, così è un cespuglioso. Se noi la alleggeriamo, la rendiamo anche un pochino più dinamica. Facciamolo insieme. Partiamo con la rimozione di ciò che è superfluo. Oh mamma, c'è una vespa, poverina. Mi dispiace questa vespa qua, perché vive sotto questo mugo, sotto il trespolistomugo e oramai siamo in simbiosi, perché non pungono? Cioè, quando vado a fare i lavori, sono lì e siamo andati talmente d'accordo che non pungono mica. Poi vi faccio vedere proprio il loro nido. Mi dispiace. Allora, via la roba di troppo dietro, perché fa peso veramente eccessivo. Non bisogna aver paura a tagliare in questi casi qua, perché proprio non tagliando che la pianta diventa poi bruttissima, perché va fuori forma. Cioè, ma proprio tagliare, per tagliare intendo proprio delle cose così scorbutiche. Come ho già detto in altre occasioni, il peggior danno con le forbici si fa a non utilizzarlo utilizzandole male. Quindi, ecco, vedete anche qua, via. Perché taglio qua? Perché dietro intanto delle gemmine arretrate, poi, visto un mugo come reagisce, mi fa gemme arretrate. Poi, questo è il periodo, l'estate è proprio il periodo in cui gemme massima potenza. Anche qua sta sparando troppo in alto, gli do una passatina. Questa cosa la sfruttiamo perché il mugo tiene gli aghi per un discreto periodo e per cui non è che se vado a tagliare muore. Cioè, se lo faccio su un pentafilla, vado a tagliare le zone arretrate, mi secca il ramo. Se lascio solamente, se taglio gli apici così, lascio solo lago vecchio. Il mugo no. Questa cosa che lago me lo tiene diversi anni e per cui mi dà molta, molta più elasticità negli interventi perché so che avrà un anno per reagire e andare a fare nuova vegetazione arretrata. Per quello dice un mugo gioie e dolori perché ci dà quella cosa lì che molla le vene ma allo stesso tempo mi dà anche una flessibilità, una possibilità di operare, di fare certe operazioni che altre piante proprio non danno. Allora, mugo poi, per coltivare bene il mugo cosa ci vuole? Un'escursione termica non sarebbe male, anche se devo dire che abbiamo fatto un esperimento con un amico, un mugo giù a vicino Genova, a Lavagna e sta a Venone. Gli ho venduto il mio vecchio mugo, abbiamo cercato di capire quali erano i parametri e tutto quanto, la pianta sta benissimo, benissimo. Ok, allora via tutto, voglio proprio una pianta qua dietro leggera che possa essere ricostruita, guardate quanto vado a togliere, ok, deve essere ricostruita con vegetazione molto più arretrata. Se io non faccio questa operazione qua l'anno prossimo, anche se pizzico tantissimo, mi aumenta tantissimo di volume con i nuovi germogli, con le nuove candele, per cui ho una crescita oltre la misura, ok? Anche se io faccio una pizzicatura massima, lasciando proprio, però mi va proprio fuori forma, allora devo agire. Agisco adesso perché la pianta ha ancora la forza, ripeto, per creare gemme arretrate e in più vado a togliere quello che naturalmente tende a devitalizzarsi quando ho una pianta così folta perché chiaramente la luce entra meno e ci sono dei rametti sotto che perdono vigore, diventano atrofici e c'è il naturale riciclo del lago perché è vero che tiene tanto tempo lago ma non è eterno. Infatti ci sono, vabbè, anche piante che poi ho venduto io a determinate persone che poi sono andate un po' a rovinare l'estetica. Perché questo? Perché allora io le ho vendute, sono rimaste per qualche anno nella forma così come l'ho venduta io, però dopo un po' se non fai manutenzione c'è questa regressione, no? E per cui se non è stata fatta manutenzione purtroppo in un determinato lasso di tempo ti trovi un anno che la pianta è splendida, l'anno dopo che è troppo cresciuta perde vegetazione interna e poi devi resettare la pianta, ecco. Questa qua era un po' che non facevo manutenzione anche perché la volevo esporre in una in una mostra, poi no ho deciso di no, piante troppo pesanti e a cascata non le spongo per la difficoltà proprio nel trasporto, cioè sono piante veramente ostiche da trasportare perché voi come la trasportate questa è in macchina, ho sdraiato, che cosa? Però vedete come lì se i miei bancalli ferma ci sta bene, se io la trasporto in macchina si sa mai, soffrono, io certe piante non le ho mai esposte proprio per evitare loro una sofferenza, una perdita di vigore, quindi preferisco che stiano bene, tanto non vinco mai un tubazzo, quindi che stiamo bene nel mio giardino e il resto chi se ne frega. Tagliamo, ecco qua, anche diametri che iniziano ad essere grossi, tagliamo così possiamo sostituirli. Poi ripeto ragazzi, allora questo può essere un insegnamento perché chi è già più avanti può trarre molto insegnamento da questi video a quello che dico. Ecco attenzione che certi lavori che non avete mai fatto, farli in autonomia è difficile, quindi io consiglio poi di andare da un professionista che sia io o un'altra persona che vi può seguire dal vero, perché certi lavori è abbastanza mostrarveli una volta che poi siete già un passo avanti. Poi sì, si fanno delle correzioni, in questo modo qua, con dei video uno può avere l'idea, lo spunto, capire, però a questo punto ad esempio vi faccio vedere, voglio fare un po' un buco, tra virgolette, in modo tale che l'occhio possa entrare a apprezzare le parti più interne e fare anche dei chiari scuri. E allora cosa faccio? Vado a pulire un po' di più questa zona e a spostare la vegetazione in modo tale proprio che mi si crei un buco. Ecco, un esempio, qui, 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 qui. Questo mi spara dalla forma, io posso tagliarlo, ho delle gemmine arretrate, posso tagliarlo. Se questo ramo mi succede che non ricaccia, non me ne frega, perché io faccio così e lo taglio tutto, no? Questo era per farvi vedere adesso un esempio, no? Però ecco, nel mugo io ho questo vantaggio qua, se non ricaccia ho altre gemme di riserva da poter utilizzare. Guardate come spara in questa zona, allora devo contenerlo. Io qua dietro ho degli aghi vecchi e delle gemme arretrate, io posso tagliare. Posso tagliare e ho dato, proprio togliendo anche solamente un rametto, ho dato una contradirezione al mio apice. Adesso metto, posizioniamo un pochino più lontano la nostra camera, così potete vedere tutto il lavoro, man mano da vicino, che faccio da vicino, da lontano, nell'insieme, diciamo. Allora, se voi, se osservate la forma di sta pianta, è un monolite, dobbiamo cercare di dare un po' di movimento, come faccio qua? Ad esempio, cerco di rientrare in sta zona affinché la mia pianta possa avere un contromovimento che torni indietro per poi uscire nuovamente con l'apice. Qui in vegetazione ne ho tanta, per cui posso andare abbastanza sicuro. Qui adesso io sto tenendo alcuni rami che poi in futuro posso anche andare a eliminare, però, vabbè, per adesso siamo lì. Devo riuscire a fare questa zona che rientra e poi che esce nuovamente, rendere quantomeno snella questa zona. Ricordatevi che l'estate è un momento d'oro per le conifere, perché se andate a lavorare come si deve, le pulite bene, è il momento in cui vi fanno tante gemme e poi avete tutti i benefici in primavera. Ok, allora qua devo rientrare questo, non mi piace. Questi sono aghi vecchi che devo togliere. Vedete questo, se viene via così vado pure a strappo, non vado a tagliare. E questo è ancora lungo. ok, questo dietro è lunghissimo, però ecco, come al solito io mi aiuto con la telecamera per vedere come sta a livello di lunghezza, se posso arretrare di più o di meno. Vediamo. Ok, ho creato un buco, ho questa zona ancora che è molto, molto pesante. Altro, andando a ruotare leggermente questa pianta, io posso avere un altro beneficio. Allora, facciamo così, questa cosa. Leggerito leggermente sto ramo, perché stava prendendo un peso eccessivo. qua devo andare alleggerire. C'è tanta di questa vegetazione cacciata veramente in modo fortissimo questa pianta. Anche qua sotto l'apice diamo un po' di aria, perché c'è ago vecchio. Ok, adesso la geometria qua. Mi piace abbastanza anche se ho margine per alleggerirlo ulteriormente. Che mi fa peso è questo, perché vedete che va giù un tutt'uno e questo ramo storto è molto folto. Allora, devo sistemare questo ramo e cercare di creare qualcosa qua di dinamico che sia bello. Vediamo questo ramo se già tagliando quello che è di troppo, come questi rami cresciuti troppo cadenti, può darmi qualche effetto, qualche miglioria. Ok. Utilizziamo il filo qua. Come sta? Come sta? Amelici. Sì, la pianta. Bene. Ha una bella forma. Sì. Allora, vediamo. Ma non mi piace una cosa. Cosa? Mi fa paura il tronco. Che troballa. Sì. Allora, qua sotto è foltissimo e alcuni punti sono cadenti, quindi la soluzione è tagliare. Cioè, ho veramente tanta roba, mi appesantisce il palco. Via. Taglio, faccio un palco un pochino più leggero. Ok. Meno imponente anche la vista. Questo vado a riposizionarli col filo vecchio. Sto usando il filo vecchio. Adesso, ora voglio fare una modifica alla rotazione. Prima l'avevo detto. Faccio vedere leggermente girato, come può essere. Secondo me prende più dinamismo, tanto la devo già comunque rinvasare. Vediamo. Adesso sì. Ci manca un qualcosa che qua si sta sollevando troppo, quindi una correzione col filo. Ah, tiene già ancora filo vecchio. Perfetto. Qua invece dobbiamo mettere una piccola correzione col filo, perché si alza troppo e non mi piace. Nel frattempo si è bloccata ancora la macchina dal caldo. Allora sono andato a prendermi il berretto, perché rivedendo i video ho visto che si vede la piazzetta. E niente, mi sono preso questo berretto qua che me l'ha regalato al mare. Cioè, un tizio, allo schiuma party, ha fatto finta di darmi il berretto per aiutarmi perché c'era schiuma ovunque. solo che me l'aveva riempito di sabbia il fetetto. E allora ho detto, adesso me lo regali. E lui ha detto, va bene. E non lo conoscevo neanche. E tutto questo è in inglese, tra l'altro. Era, cos'è che era? Cazaco? E niente. Morale, mi ha regalato sto cappellino qua che mi sta bene anche. Forse, almeno. A me, mia moglie e mia figlia mi avevano detto che mi stava bene però. magari anche per... Allora sto filando un po' questo, un po' di filo dell'uno e mezzo. Ho tolto il filo vecchio e ho messo questo che non era più efficace. Ho messo questo in modo tale che possa riportare un pochino in bolla il ramo. Adesso vediamo se basta. Allora vale sempre la mia formula che io non sto a togliere tutto il filo e a rimetterlo. Cioè, lo faccio laddove mi serve. Allora, questo qua ad esempio è un ramo che va via molto lontano. Lo contengo. Ok. Poi questo, so già che andrà a perdere. Perché ho tagliato, ho tenuto solo pochi aghi vecchi. So già che andrà a perdere però favorirà l'arretramento. Zio Bono. Parlare così, adesso non mi vedo nel video, ma parlare così con gli occhiali a metà mi sembra essere la nonna Belardo. Vabbè. Allora, adesso partiamo ancora nel video com'è. Poi devo mettere un rinforzino. Un minuto dell'1 ce l'ho qua. Ecco qua, chiaramente si usano diametri. Io col mugo non vado mai sotto l'1. Perché sì, ho un tour a qualcosa, però insomma diciamo che preferisco stare minimo all'1. l'altro sto legando con una fatica incredibile. Ci sto mettendo un casino. Perché? Cioè sto andando in blind e contromano. Per essere a favore di telecamera. Dai. Più che tenga. Allora. E non sia un pugno nell'occhio esteticamente. Ok. Poi magari se siete della filosofia solo votature ecco dire no non perdere tempo col filo che il filo non è bello. Il filo è male. Però. No no. Io il filo ce lo metto. Perché mi fa la sua differenza. Ecco qua. Un altro pochino. Qui appena appena. Solo per indirizzare. Deve essere ecco messo bene tra tra gli aghi. In modo tale che non prenda dentro gli aghi. Se no questi si seccano. Deve essere invisibile il filo eh. Tanti dicono ah no ma il filo no non ci deve essere. Però lo mettono male. Allora. Mettilo bene. Che vedrai. Anche tante piante maestri giapponesi ci sono sul filo eh. Non è mica esposte alle maggiore mostre. Messo bene ci sta. Ci sta. Messo male non ci sta mai. Ma neanche. Cioè ma proprio concettualmente. Il bonsai è una cosa che è orientato all'estetica. Se fai un lavoro di brutto DM. Cos'è? Sei facendo manovalanza. Cioè non è un... Fai già subito bello. Allora via questi aghi qua sotto che sono esausti e poi fanno il doppio mento. Eh eh eh. Allora in tanti tra l'altro mi hanno chiesto. Oh gente in Puglia. Oh cosa mi consigli per un mugo? Uh. Fa ora. Perché comunque fa molto caldo. Ci vuole tanta escursione termica eh per il mugo. Non è che non sopporti il caldo. Non è che non sopporti il caldo. Ci vuole un po' di escursione termica. E per cui quei posti dove c'è sempre un caldo costante e elevato per tanti mesi l'anno. Consecutivi. Ecco io lo sconsiglio. Ripeto sono riuscito con quei miei amici lì di Genova. Ho fatto anche degli abeti di Mughi a degli allievi lì in zona Reggio Emilia che fa molto caldo no? E ci hanno fatto. Ci hanno fatto per l'amore di Dio. Però ecco deve essere già per una persona che è abbastanza brava a coltivare. Cioè uno non è che lo sconsiglio più che altro come esperimento a chi è neofita eh. Perché comunque prenderebbe brutte delusioni. Poi se uno dopo dopo un po' che fa bonsai ecco ha quel pallino lì. Gli manca quell'essenza e ci vuole provare è giusto. Cioè nel senso fa parte anche no del bello del bonsai. Tentare la sfida. Poi o se vedi che la pianta non lavora come dovrebbe la vendi la cedi ok. Però se lo ripeto ci sono stati dei casi di successo e per cui perché non provarci. Magari il caso di successo può essere proprio il vostro. Allora qui questo buco qua io voglio creare. Mi torna indietro. Vediamo eh. Vediamo sempre come sta dentro. Come sta nella immagine la foto. Nella fotocamera. Si insomma vabbè ci siamo capiti. Nella camera volevo vedere. Esteticamente. Qua c'è ancora tanti aghi vecchi che poi verranno via. Però ormai diciamo che li ho staccati tutti. I rami secchi o deboli li ho tolti. In modo tale che poi la. Pian piano col vento con l'acqua. Quando sono lì. E li guardo addosso a passare il tempo riesco a tirarli via. Allora fa vedere. Si. Ehm. C'è ancora troppo qua. Questa zona qua. Ancora troppo pieno. Devo alleggerire ulteriormente. Allora però non è pieno. Allora questo lo posso risolvere. Girandolo leggermente così. Fa vedere. Si. Già meglio. Allora. Un po' meno. Così. Così. Allora questo. Questo è troppo. E troppo. Dobbiamo. Contenere. Se non tagliare del tutto. Proviamo a contenere un pochino a lunghezza. E se non eliminiamo del tutto. Non faccio via di mezzo. Perché. Se no. Non ho germoglietti. Così. Allora. Così. Così. Poi. Questo è barboso. Vediamo. Facciamo fare un lavoro. E facciamo un po' di filatura. Anche qua. Tanto. Mi basta. Due spanne di filo dell'uno. Che mi cambia la faccia alla pianta. E allora facciamo. Non stiamo a perdere tempo. Lo faccio. Non lo faccio. Sperare nella divina provvidenza. Che già. Per il Mugu. Ce ne vuole. Ripeto. E' una pianta. Gioia e dolori. E' come. Ecco. Come Tango. Avete presente. Tango. Il film. Altrimenti. No. Cos'è che è. Non c'è due senza quattro. Bus Spencer e Terence Hill. Ecco. Il Mugu è come Tango. Egli mette paura alla gente. Il signore è molto conosciuto nell'ambiente dei cattivi con il soprannome di Tango. Tango? Questo signore sembra sia il più cattivo di tutti. Egli mette paura alla gente. Egli mette paura alla gente. Così. Allora. Così. E così. Perfetto. Questo è molto dietro. Io lo voglio indietrizzare ulteriormente. Quindi ci vado a mettere un po' di filo. Allora. Qua. Ecco. Siccome è una pianta che. Chiaro. Vabbè. Adesso non la porto in mostra. Però potrei portarla in mostra. Li metto già. Un diametro di filo. Che se anche lo lascio su. Non dà fastidio. Esteticamente. Per cui. In questo caso. Metto un 1 e 2. Che è proprio. Il buono suo. Il buono suo. Aia. Eccoci qua. Allora. Il trucco. Quando metto il filo. E metterlo. Quando vado a usare. Un diametro. Così sotto. Dimensionato. Utilizzare. Già. Cioè. Applicarlo già. Con la piega. Che voglio dare. Alla pianta. Perché se io metto il ramo dritto. E poi vado a piegare. Fa. Meno forza. Di quello che potrebbe fare. Adesso vi faccio vedere. Più o meno. Il range del fronte. Di prima. Il fronte. Di adesso. Chiaramente. Deve ancora maturare. Perché dei rami. Gli ho potati. E degli altri no. Quindi deve prendere. Naturalezza. Specialmente. Va beh. Qua. Deve ricacciare un po. E poi. Deve infoltire. Leggermente qua sotto. E qua. Creare un buco. Questo io proprio. Lo vorrei eliminare. Questa zona qua. In modo tale. Che si creano quasi. Due zone. Diverse. O comunque. Una zona. Con un cono d'ombra. Molto. Molto. Accentuato. Ok. Già questo. Se lo alzo così. Cambierebbe. Un pochino. Esteticamente. La sorte. Della pianta. Ok. E. Va beh. Questo. Che. Potrei anche pensare. Di eliminare. Questa. La zona. Questa. Potrei abbassarla. Così. Ok. In modo tale. Che vado a creare. Due zone. Un po' più dinamica. A gusto. Allora. Qua. Questo. È molto in vista. Devo risollevarlo. Questo. Perché effettivamente. Prima ci ho lavorato. L'ho passato. Per lavorarci. E poi. Non l'ho più. Riposizionato. Il mio. Caro Ivo. Perdi colpi. Eh. Molto evidente. Ma è proprio. Allora. Dal zero. Non si vede. Dalla camera. Che si vede tanto. Perché l'ho aperto. Se io. Allora. Ad esempio. Metto così. Così. Dalla camera. Va molto meglio. Però. Ho un metro e mezzo. Dalla camera. La pianta. Ok. Dalla camera. Dalla camera. Va meglio. Dal vero. No. Nel senso. Perché. Non si vede. La partenza. I quei ramoli. Così. Per fare. Un bel lavoro. Dovrei essere. Manesco. Così. Così. Ecco. Il bello. Del mugo. Che. Non è che si rompa. Con facilità. Anzi. Per cui. Consente. Di fare. Questi. Maneggi. L'unica cosa. Che. Sposti. Il ramo. Lì. Dove. Vuoi. E poi. Ci vuole. Tre. Quattro anni. Ora. Che tiene. La forma. Originale. Allora. Adesso. Mi ha ridato. Un po' di peso. Di qua. Anche. Questo. Magari. Andiamo. Spostare. In questo modo. Copro. Un poco. Di più. Così. Questo. Mi stava sui marroni. Dall'inizio. Alla fine. Sto bene. L'ho tagliato. Mi piace questo buco qua. Proprio. 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 Alli mortacci. Avete visto. Allora. La pianta si è assestata. Mi è venuta a cuore in gola. Perché rischiavamo di non aver più la pianta. Perché rischiavamo di non aver più la pianta. ma c'è ancora ci siamo quasi comunque manutenzione fatta i fili aspetterò ancora un pochino a cambiare perché adesso ho cambiato posizione la pianta si espone diversamente al sole inizierà a spingere a breve e poi farò la sostituzione come farò la sostituzione? l'ho già detto cambio solo il pezzettino che mi serve io non sono dell'idea di togliere tutto il filo e poi rimetterlo perché non ha senso se posso togliere il filo su un pezzo e lasciarla senza lo faccio se devo cambiare solamente un pezzettino cambio solamente quel pezzo perché se vado a togliere tutto il filo non riesco più a metterla così come prima quindi il filo ha il compito di tenere in una determinata posizione i rami toglierlo tutto il ramo torna indietro rimetterlo difficilmente riesco a metterlo come prima se continuo a fare questa operazione qua è un continuo metti togli metti togli ed è una pianta che difficilmente rimarrà senza filo perché non prenderà mai la forma ottimale così invece io sfrutto al massimo il filo poi cambio solamente il pezzettino così come dicevo prima gli faccio fare una via diversa da quella dove c'era il filo vecchio dove ha segnato in modo tale che dove ha segnato va a fare callo mi ferma, mi blocca il ramo e basta, qualche anno tiro via e rimane lì senza il filo ok, o con fili diametro minimo ok, sempre quando si va a filare il grosso diametro massimo perché deve tenere poi pian piano si va a tirar via, a diminuire di diametro ok, allora a questo punto del video solitamente l'utenza è scappata nessuno più mette like né niente bravi che è arrivato fino alla fine del video e grazie per avermi onorato con la vostra presenza e alla prossima, ciao! adesso rimetto qua sta pianta che è così ci ho messo 5 anni per disincastrarla oh, si è già rincastrata, guarda misura perfetta goccio d'acqua acqua buona mi raccomando dopo ogni lavorazione ok, preguigerio fino a un uvo beneficio fino a un uvo beneficio Grazie a tutti.